Benvenuti dal vostro Anaru Sensei Oggi vi vado a presentare un programma spettacolare Spettacolare per chi non sa usare il computer E spettacolare per chi invece è uno smanettone come me Completamente gratuito Vi da la possibilità non solo di ottimizzare il vostro Windows Renderlo veramente scattante e anche più privato A livello di privacy, a livello di manutenzione eccetera Vi da anche la possibilità di rendere banali con pochi click Dei procedimenti normalmente macchinosi o molto fastidiosi Ora però vi dovete godere per forza la bellissima sigla Ribenvenuti dal vostro Anaru Sensei Per prima cosa andiamo sul nostro fantomatico sito GitHub Che trovate il link in descrizione Per scoprire questo Optimizer Windows Faster and More Secure Fantastico Adesso ci andiamo a capire per bene di cosa stiamo parlando Disponibile in 15 lingue Quindi tanta roba Soprattutto perché finalmente c'è qualcosa in italiano Perché gli italiani come sempre non contano mai niente Abbiamo la possibilità di scaricarlo sia dal link con scritto download Sia direttamente dal flag, dalla bandierina italiana E sappiate che il file è sempre lo stesso Non cambia assolutamente niente Anche se cliccate altre bandierine Perché la scelta della lingua sarà fatta con il primo avvio del programma Ora ci sono changelog Ci sono varie notizie eccetera eccetera Non è che ci interessa più di tanto Andiamo a vedere e scoprire come funziona questo programma spaventoso Io me lo sono messo dentro il programma Il programma dentro la barra dello start Si va con un bel esegui come amministratore E dopo aver dato conferma Come vedete selezioniamo la nostra lingua italiana Visto che c'è Per carità sfruttiamola al massimo Nel giro di qualche secondo Optimizer farà un controllo di tutto quanto il sistema operativo dell'hardware E farà in modo di partire alla grande Prima cosa però Oltre a notare la grafica assolutamente chiara, pulita e semplice È quella di andare nelle opzioni Selezionare la lingua corretta se l'abbiamo sbagliata Quindi si può anche modificare Qui abbiamo anche i link per Github Per i supporti Per tutte quante queste cose Abbiamo la possibilità di farlo partire all'avvio E averlo qua in basso Per attivare e disattivare tutte le nostre impostazioni rapide Se c'è qualcuno che ha visto già questo È tanta roba Comunque sia Dopo ve lo vado a spiegare in dettaglio Abbiamo internet, abbiamo un sacco di roba Lasciamo là Mostra suggerimenti assolutamente sì Il tema non è altro che grafica Quindi decidete quello che volete Io sono un amante del verde Quindi lascio il verde Qua possiamo sistemare gli errori Verificare configurazioni Gli aggiornamenti Eccetera eccetera Ora partiamo alla grandissima Già con la prima pagina Qui è valido per tutti quanti i sistemi operativi Windows Quindi questa è una pagina Che assolutamente dovete andare a vedere La cosa bella e pratica alla portata di tutti È che vi basta andare sopra a una qualsiasi frase Per avere tutta la descrizione di che cosa fa in realtà questo comando Come vedete Partiamo subito con la lista Abilita miglioramento prestazioni Qui riduce il tempo di attesa Prima di terminare un processo Riduce la latenza per mostrare il menu Insomma lo fa diventare più veloce Mostre i file nascosti e molto altro Assolutamente abilitiamo Abilitiamo Disabilità rallentamento della rete Questo assolutamente sì È una cosa molto importante Perché? Perché Windows ha un meccanismo di rallentamento Durante le esecuzioni delle app multimediali Praticamente può ridurre la velocità della connessione Quindi se noi abbiamo un gioco aperto E ci serve una latenza bassa È assolutamente da cliccare Disabilita Windows Defender Assolutamente no Ok? C'è anche scritto Non può essere disabilitato in Windows 10 Con le nuove versioni Perché? Perché c'è una protezione Che serve proprio per fare in modo che ci sia sempre Non lo consiglio assolutamente di cliccare questa funzione Perché? Perché Windows Defender è comunque ottimo Se non vi piace Sappiate che nel momento in cui vi andate ad installare un antivirus Di terze parti come nel mio caso Ho Panda, DOM, Advanced Di cui ricordo Ci sono dei grossi sconti nelle licenze Basta che venite a chiedermeli In automatico Windows Defender viene disabilitato Perciò Perché andare a rischiare di essere scoperti? Assolutamente no Disabilitare Smart Screen Smart Screen serve per controllare File, download, eccetera E che di base tantissimi antivirus di terze parti fanno Ma comunque Smart Screen personalmente lo trovo utile Non dà fastidio, non è invasivo Salta fuori solo ogni tanto E ci serve proprio per parare le chiappette Quando rischiamo di scaricare qualcosa che non va Quindi Smart Screen disabilitato io lo lascio Disabilitare il ripristino di sistema No Potete farlo se avete problemi Non so Durante i vari riavvi Se avete degli aggiornamenti, eccetera Ma è una cosa un po' più da professional Io non consiglio assolutamente di toccarlo Disabilita segnalazione errori Questo per chi è amante della privacy Lo può assolutamente fare Serve per fare in modo che ogni volta che c'è un errore La Microsoft non lo sappia Viene disabilitato Il nostro computer è nostro E quindi facendo così abbiamo la privacy aumentata Chiaro che se tutti fanno questa cosa La Microsoft non sa neanche che il suo computer Il suo sistema operativo ha dei problemi Perciò è relativamente utile a livello di velocità, eccetera Serve principalmente per un discorso di privacy Disabilita processi telemetrie Anche qui Questo serve per inviare periodicamente Dei file Dei specie di resoconti Del vostro sistema operativo Di programmi che avete Di cosa fate Di quando lo accendete Insomma Di farvi gli affari vostri Di dirgli a Microsoft Questo Personalmente Consiglio di attivarlo Perché La telemetria È sempre stata una cosa Che non mi piace Perciò Potete disabilitarlo Poi Disabilitare la telemetria Sempre Anche di Office Assolutamente sì Se Non lo utilizzate Se utilizzate altri programmi Io ad esempio In questo momento Ho Libre Office Però Anche se avete Office installato Comunque La telemetria Sicuramente È un vantaggio Disabilitarla Sia a livello di Risorse di RAM Di processore Sia di connessione Internet E dopo appunto Serve per non farvi fare Gli affari vostri In giro Disabilitare la telemetria Di Visual Studio Sì La telemetria Di Firefox Non uso Firefox Quindi sì Disabilitare la telemetria Di Chrome Non uso Chrome Quindi sì Brave E Opera Che sono i miei browser Preferiti Sono basati Sono basati Su Chrome Però alla fine È un mondo A sé Non hanno privacy Eccetera Invasioni strane Quindi non mi Controllano E posso tranquillamente Disabilitarlo Disabilitare il servizio Di stampa Serve per Verificare se ci sono Stampanti Connesse o meno Questo sicuramente Mi serve Quindi non lo disabilito Altrimenti Se attacco una stampante Lei non lo sa Non posso usare stampanti In pratica Perciò Lasciamo fermo Disabilitare il servizio Fax Questo sì Perché Ormai Penso che Il 99,99% Delle persone Non usano più Il fax Tramite Windows O non usano proprio Il fax Perciò Assolutamente Disabilitato Disabilita Condivisione Media Player Questo serve Per Condividere I file Con i vostri Media Player Ufficiali Predefiniti Di sistema Se utilizzate VLC Se utilizzate Altro Non vi interessa Quindi Potete tranquillamente Disabilitarlo Sempre per un discorso Di privacy Disabilita Tasti Permanenti Attenzione Questa è tanta Tanta roba Per chi come me Gioca Ai videogame Online O qualsiasi altro MMO Eccetera I tasti Multipli Saltano sempre fuori E quindi Nel momento in cui Sto giocando Sto facendo roba Mi si apre La fastidiosa schermata Di tasti Permanenti Perciò Disabilita I tasti Permanenti Ovvero La combinazione Di tasti Tenendo premuto Shift Eccetera Per x secondi Non mi interessa Disabilita Gruppo Home Questa È una funzionalità Per chi Ha a che fare Con la rete Domestica Usando Windows Explorer Non mi interessa La disabilito Disabilitare Super Fetch Questo qua Sì Assolutamente Serve per Fare in modo Che venga Utilizzato E sfruttato Meno Il nostro Hard disk O SSD Perciò Ci fa durare Più a lungo Tutto quanto A livello Anche hardware RAM compresa Disabilita Assistente Compatibilità Questo serve Per rilevare I problemi Di compatibilità Di compatibilità Sui programmi Più vecchi Personalmente La lascerei Anche disabilitata Perché non si sa mai Si può Comunque fare Tasto destro Proprietà Esegui Come Windows 8 Eccetera Però Non è che Mi da fastidio Quindi Lasciamolo pure così Bene Ora andiamo sulla pagina Di Windows 11 Ovviamente Per chi Ha Windows 11 Disabilita Storico Accesso rapido E fa Recenti Praticamente Dovreste Trovarlo qua Però in realtà A parte i consigliati Io non ho mai visto Nessun Storico Non so se è una cosa Che verrà fuori Prossimamente Però attualmente È normale Ah qua c'è scritto Strico Perché Si sono dimenticati Di una O Penso che verrà Fissato Con uno dei prossimi Aggiornamenti Di Optimizer Disabilita Annunci Nel menu Start Nel menu Start Attualmente Come ripeto Non vedo annunci Non vedo niente Ho solo le mie app Quindi Non ho problemi Disinstalla OneDrive Questo si Io l'ho già Disinstallato Lo potete Disinstallare Tranquillamente Con un click Io utilizzo Google Drive Utilizzo Box Utilizzo Proton Drive Quindi Sono strumenti Sono strumenti Diversi Avere Un miliardo E mezzo Di Grandezza Del testo Su rinomina Se la cartella Invece Di chiamarsi Sgabuzzino Stile Come ce l'ho io Si chiama Non so Supercalifragilistico Spiralidoso E ne fate Dieci così Andate A sorpassare I 256 caratteri E il risultato È che Non potete Creare Nuove cartelle I nuovi percorsi Se siete Delle persone Che rinominano Cartelle e file In maniera lunga Abilitare i percorsi File Lunghi Potrebbe essere Oro Colato Per le vostre esigenze Personalmente Non mi interessa Disabilita Windows Inc Questo serve Esclusivamente Per chi ha Uno schermo Touchscreen Proprio per Disegnare Sullo schermo Io non ce l'ho Lo schermo così E quindi Lo disabilisco Disabilito Disabilita Controllo Ortografia Attenzione Questo è solo Per tastiera Touch Quindi Se avete una tastiera Touch Lo schermo Touch Eccetera È un conto Altrimenti Disabilitarlo Disabilita Xbox Live A cosa serve? È un Programma Diciamo così Una funzione Un servizio Pre Installato Dentro Tutti quanti I nuovi Windows E serve per Per registrare Lo schermo Per streamare Per fare robe Fiere Soprattutto per Videogiocatori Youtuber Eccetera Potete Disabilitarlo Se non siete Abituati A streamare O a registrare Il vostro schermo Disabilitare Il controllo TPM 2.0 Allora Qui È tanta roba Relativamente Ovvero Vi ho insegnato Che cos'è Il TPM 2.0 Nei miei video Precedenti E vi ho insegnato Anche Di installare Windows 11 Nei computer In cui TPM 2.0 Non c'è Anche se Richiesto Ora Se voi siete In questa pagina Dentro A Windows 11 E non avete Il TPM È perché Avete seguito Uno dei miei tutorial E l'avete installato Lo stesso Quindi Disabilitare Il controllo Serve In maniera Relativa Se però Avete programmi O altro Che ve lo richiede Allora Lo potete Tranquillamente Attivare Se invece Se invece Oggi sono dislessico Ce l'avete Assolutamente Da non toccare Perché È una funzione Un servizio Un sistema Di protezione Avanzato Immaginate Un piccolo Antivirus Hardware Chiamiamolo così In maniera Un po' Poco elegante Poi Disabilita Aggiornamenti E funzionalità Assolutamente No Cioè Gli aggiornamenti Delle funzionalità Di Windows Sono la base Della correzione Dei bug E delle falle Perciò Assolutamente Io non voglio Disabilitare E non consiglio Di disabilitare Gli aggiornamenti Di Windows Questa è una cosa Che si faceva Anni 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 Orsono Nel Windows 7 E nei Windows Precedenti Per ovvi motivi Ma In questo momento Negli ultimi anni Assolutamente Non toccate Gli aggiornamenti Ok Mai farlo Passiamo di qua Disabilita Aggiornamenti Automatici Stessa storia Funzioni diverse Ma il concetto È lo stesso Non voglio Neanche fermarmi A parlarne ancora Perché Assolutamente Sconsigliato Escludi Driver Degli aggiornamenti Ora Vi è mai capitato Che durante Gli aggiornamenti Di Windows Quando andate A fare Windows Update Qua in cima Vi capita Aggiornamenti Aggiornamenti Facoltativi E quando li andate A cliccare Visualizza Aggiornamenti Facoltativi Vi va Ad aggiornare Non so Il processore Intel Pentium Eccetera Eccetera E voi Non volete farlo Quelli sono Dei driver Aggiuntivi Normalmente Se un driver Funziona E vi ricordo Come fare Basta andare A premere Gestione Dispositivi Nella barra Eccolo qua Se voi qua Non avete Nessun segnale Di allarme Che manca Un driver Non dovete Preoccuparvi Di fare Aggiornamenti Particolari O di Avere Driver Aggiornati Perché Perché normalmente Un sistema Che funziona Bene Non serve Avere Sempre L'ultimo Driver Non serve Avere Sempre Gli ultimi Aggiornamenti Perché si rischia Di spesso Volentieri A creare Di conflitti Perciò Vi fate un giro Ogni tanto Con driver Booster E siete a posto Quindi escludi Driver dagli Aggiornamenti Assolutamente Si Disabilita Servizi Telemetria Qui sono Altri servizi Ancora Per il discorso Di Privacy Riguardante Windows Assolutamente Disabilitato Aumenta La privacy Qui ci sono Altre Cose che vanno Disabilitate Biometrica Geolocalizzazione Condivisione app Su più dispositivi Cronologia testi Diagnostica Assolutamente Da abilitare Perché è tutta roba Che non mi interessa E che Microsoft Non merita Di conoscere Del mio computer Disabilità Punti cloud Qua abbiamo Sempre Un discorso Di privacy E richiede Di aver fatto L'account L'accesso All'account Microsoft Io Non ho nessun Account Sono offline Quindi lo Disabilito Se non Utilizzate Gli appunti In cloud Tra più Dispositivi Questo Lo potete Tranquillamente Disabilitare Disabilita Cortana Povera Cortana Io la lascio Attiva Perché Non consuma Tantissimo Perché in Windows 11 è stata Modificata E silenziata È molto Meno fastidiosa E oltretutto La barra di ricerca Nello start Premere Qualsiasi cosa Così Fare una ricerca Ma è sta comoda Cioè io la uso Quotidianamente Quindi assolutamente La voglio ottenere Disabilita Servizi Sensori Ora Questa È una cosa Utile Per tablet E dispositivi Con touch screen Stessa cosa Dell'altra parte Perciò Disabilitato Se voi avete Il solito Vecchio Monitor Touch O robe strane I sensori Vi servono Altrimenti Lasciate perdere Remove Cast to device Questo serve Praticamente Per Il tasto destro Per chi usa Miracast Non vi sto a spiegare Che cos'è Miracast Ve lo andate a vedere Comunque Diciamo che Il 99% Delle persone Deve fare così Ok Se non sapete Che cos'è Miracast Allora Disabilitatelo Disabilita Game Bar Questo Fa sempre parte Del discorso Xbox Live Serve Per appunto Attivare Disattivare Le registrazioni Eccetera Eccetera Io lascio tutto attivo Perché ogni tanto Mi torna comodo Però se non siete Appunto Di videogiocatori Disabilitatelo Disabilita Insider Service Che cos'è Insider Service Non è altro che Il beta Ok La funzione beta Di Windows Chiaro che Significa Avere un sistema Operativo Con possibile falle Con possibile bug Con possibili Rallentamenti O errori di sistema Quindi Se siete Degli smanettoni Vi serve Se non siete Degli smanettoni Assolutamente Potete Tranquillamente Disabilitarlo Ok Non cambia Assolutamente Niente Alla fine Ora Questa parte Qua in basso Invece È relativamente Utile E comoda Forse È comodissima Per tante persone Soprattutto se avete Appena installato Windows 11 E Dall'altro Lato È una cosa Meno utile Se avete Già seguito I miei tutorial Qua siete Già Più che abbondantemente A posto E puliti Vi faccio capire In questo momento Io ho Windows 11 Come potete vedere Con questo tasto Si allinea La barra Dell'applicazione A sinistra Eccola qua Io ce l'ho già A sinistra Però Basta fare Tasto destro L'impostazione Della barra E come vi ho insegnato Comportamento Barra E qua decido Sinistra O al centro Qua è possibile Impostare la barra E' possibile Disattivare La visualizzazione Delle attività Dei widget Della chat Eccetera Eccetera Si fa tutto In questa schermata E basta Un click Cioè Non serve Chissà Niente di miracoloso E questo E questo è la stessa roba Widget Chat Snap Assist Cioè Sono esattamente Le stesse cose Che vi ho appena Fatto vedere Quindi Allineare la barra Da una parte O dall'altra Serve Relativamente Appunto Proprio perché Qua ho tutte Quante le stesse Impostazioni Chiaro Che se avete Appena installato Windows Siete puliti Potete fare Tutte queste cose Direttamente da qua Riduci la barra Delle applicazioni Abilita Menu classico Questo è figo Vi ho comunque Insegnato come fare Ci sono dei programmini Che lo fanno È il tasto destro Questo Ok Invece di venervi fuori Così Vi viene fuori Come mostra altre opzioni Vi viene fuori La classica Schermata Il classico Menu a tendina Questo Premendo qua Viene fuori In automatico Comodo Soprattutto per chi Non è avezzo A utilizzare Il nuovo sistema Io mi sto abituando Anche se all'inizio Era un po' fastidioso Però Mi sto abituando A questo menu E non mi dispiace Abilita menu classico Sul tasto destro Quello che vi ho detto E abilita menu classico In explorer Quello in explorer Non è altro che Vi faccio vedere Questo Praticamente Qua in cima Vi veniva fuori Il menu diverso Quello classico Quello con tutte quante Le cartelline E non più Questo Va bene Vi basta abilitarlo E riavviare Il pc Oppure Terminare Esplora risorse Però Per chi non mastica Vi basta Attivare tutto quanto E fare un riavvio Del pc Ora Passiamo sulla Schermata Successiva Qua Andiamo a Disinstallare Le app Che sono Nativamente Preinstallate In windows Fighissimo Perché questo Ripeto È veramente Una bomba Cosa andiamo a Disinstallare Ad esempio OneDrive Che mi sta Sulle balle Possiamo Disinstallare Ad esempio Your phone Perché tanto Non serve Possiamo Disinstallare Microsoft Teams Io non lo uso E se volete Avete l'Xbox Avete Che cosa Maps Notepad Potete Togliere La calcolatrice La sveglia Potete togliere Praticamente Tutto Non togliete Roba Che non sapete Cosa sia State molto attenti Andate a Disinstallare Solo Ciò che Realmente Vi da Fastidio E conoscete Your phone Serve ad esempio Per collegare Cellulari Di un certo Tipo Però Qualsiasi Telefono Voi Attaccate Di solito Si auto installa Su quelli nuovi È una roba Per roba vecchia Per cellulari Vecchi Microsoft Teams OneDrive Solita storia Non li voglio Si preme E tac Sono disinstallati Figo Veloce Rapido Indolore Va benissimo Soprattutto per Disinstallare Roba che Normalmente Non si può Installare Disinstallare O è difficile Farlo Altro giro Altra corsa Avvio Questa è la sezione Dell'avvio Di tutti i programmi Che partono Ad ogni avvio Di Windows Potete Eseguire il backup Ripristinare Rimuovere Localizzare file È molto figo Perché Voi non conoscete Ad esempio Che cosa fa Lightbulb Localizza file E vi va A far vedere Dov'è Posizionato E potete anche Disinstallarlo Potete Rimuoverlo Potete Cancellare Potete attivare Disattivare Potete fare di tutto Per la cronaca Lightbulb È il programma Che serve Per ridurre Yes Per ridurre La luminosità Dello schermo Toglie la luce blu E riduce anche La luminosità In base Alla giornata Quindi Di giorno È un po' più chiaro Quando si lavora di notte O col buio In automatico Abbassa la luminosità E la luce blu Assolutamente Da avere In qualsiasi computer Se volete Vivere Una vita migliore Altro giro Altra corsa App comuni Allora Questa è una chicca Eccezionale Soprattutto per chi Installa Il nuovo Windows 11 O altri Windows in generale E ha bisogno Di fare Poca fatica Per chi Non sa dove andare In cerca delle robe O per chi Lo fa da mattina A sera Ad esempio Se un programmatore Se un tecnico Informatico Fa 10 computer Al giorno Questa è Una manna Dal cielo Perché Perché una volta Installato il vostro Sistema operativo Questo è una sorta Di ninite Per chi Conosce Il tipo È un programma Che vi va A installare In automatico Tutti I programmi Più comodi Più utili Senza che Tocchiate Niente Quindi Vogliamo Set Zip Lo mettiamo Vogliamo Pea Zip Winrar Basta cliccare Libre Office Adobe Reader Sumatra Tutti i programmi Più utilizzati Driver Booster Revolent Installer Malwarebyte Balena Hatcher Questi sono i programmi Per creare i dispositivi Per esempio Per Linux Eccetera Qua abbiamo Tutti i browser Firefox Chrome Opera Maxton Abbiamo tutta una serie Di programmi online Vedi Steam Vedi Torrent Tutti i launcher EA Origin Uplay Epic Games Battlenet Abbiamo Programmazione C'è Notepad Più più Di cui farò un video E abbiamo Tutta la varia roba Per programmazione Appunto Non ve la sto a spiegare Perché se non siete Smanettoni Non lo conoscete Video e suono Questo Penso Tutti quanti lo utilizzino Da VLC Gimp Podplayer Fubar Spotify Winamp Mamma mia Winamp Che figata Audacity Per fare le modifiche Dei file Insomma Voi cliccate Tutti i programmi Che volete Decidete Che genere Di Bit Desiderate Se avete Windows 11 Avete poco da scegliere Perché Windows 11 È solo 64 bit Se potete Scegliete sempre 64 bit Se avete un computer Veramente molto vecchio Allora dovete Optare per il 32 Però il 64 è Più veloce Più aggiornato Più nuovo Installa automaticamente Dopo il download Quindi potete fare in modo Che dopo aver Scaricato Installi da solo Tutti i programmi Quindi con pochi click Avete un computer Quasi pronto Potete anche andare Al download E installarvi I programmi Da soli Manualmente Però È una vera goduria Poter fare Scarica E andare via Vi andate A mangiare La pizza E quando tornate Avete il computer Bello che pronto Questo è Una bomba Potete aggiornare I link Perché controlla Se ci sono Programmi nuovi Man mano Che ci sono Le nuove versioni Saranno aggiunti Altri programmi Questi sono i classici Open source O comunque sia I programmi più utilizzati Gratis Tra parentesi Perché c'è Qualcosina a pagamento Però C'è Una bomba Tanta tanta roba Questo Se siete dei programmatori O persone Poco esperte In ogni caso Vi Vi Aiuta tantissimo E dite Che questo Non è Una Mina Di programma Tutto In una Schermata Unica C'è Fantastico Una volta Fatto tutto E riavviato Perché non Pulire Il vostro sistema Personalmente Consiglio sempre Di utilizzare Il buon Ccleaner Ok Perché Perché I pulitori Ce ne sono Tanti Ce ne sono Di invasivi Vi vanno a cancellare Roba Che non va bene Ccleaner Ccleaner è il più usato Perché è abbastanza Sicuro Mi è capitato di perdere Un paio di computer Dopo aver fatto Pulizie Con Ccleaner So che è difficile Da crederlo Ma Capita Soprattutto se ci sono Altri problemi In sottofondo Prima Perciò Può capitare Se Vi fidate Se volete provare Potete provare Ad utilizzare Anche questo E quindi Decidere di eliminare I file temporani I mini dump I report Sugli errori Svuotare il cestino Dopo Tutti i soliti Programmi Di chrome Di firefox Edge Quindi Cronologia Password Tutto quanto E si va su Analizza O pulisci Si può anche fare Selezioni a tutto Se siete Proprio Malati mentali Della pulizia Comunque Personalmente Preferisco Utilizzare Ccleaner Ma In un unico Programma Avete anche questo Ping A cosa serve Il ping Il ping Serve per Fare in modo Di Verificare Se la vostra Connessione Internet È Funzionante Potete Pingare Un altro dispositivo Un altro Server Potete Verificare Se il Vostro pc È connesso Eccetera Eccetera Potete aprire Connessioni Di rete Quindi avete Tutto quanto A portata di mano E controllare Tasto destro Insomma Verificare Non so I driver E tutto quanto Svuotare Le cache Di dns Se avete Casini Insomma Potete fare Un sacco di robetta Simpatica Non vi sto A fare Roba in dettaglio Perché comunque Chi utilizza I ping Sa come funziona Gli altri Farò Dei video Dedicati Ok Questa è una sezione Un po' Più di nicchia E Non ha senso In questo momento Allungare il video Per questa roba Piuttosto Preferisco Allungare il video Per il file Host Chi Ha a che fare Con Come posso Definirlo Utilizzare Programmi Ufficiali Legali In maniera Meno legale O chi Deve Giocare Chi fa Determinate Cose Poco simpatiche Può Modificare Il file Host Aggiungendo Delle stringhe In modo Da poter Utilizzare Programmi E giochi In maniera Poco legale E Senza Problemi Ora Faccio Un rapido Riassunto Anche se Ho fatto vari video Sul file Host Il file Host In generale E' un Programma Che cacchio sto dicendo E' un file Di windows Si trova Normalmente Qui Dentro Il disco C Dopo dovete andare Dentro windows Dovete andare Dentro Driver No Dentro system 32 Prima Dentro Drivers Dentro Edge E qui Avete il file Host Il file Host Si apre Con Notepad Normalmente Il block Notice Eccolo qua Questo è un File host Pulito Come mamma L'ha fatto Qui sotto Possiamo Aggiungere Una marea Di stringhe Più stringhe Aggiungiamo Più Il pc Può essere Lento In realtà Se utilizzate Spybot Search And Destroy O uno Dei miei File Host Che ho Precaricato In altri Video Serve per Proteggervi Da Malware In genere In maniera Passiva Cosa Significa Qualsiasi Link Qualsiasi Cosa Si fa Su internet Ok Prima di Andarla Ad aprire Windows Controlla Che questo Link O comunque Sia Qualsiasi Altro link Sia Dentro Il file Host Se è Dentro Il file Host Lui Lo blocca Non lo fa Neanche Passare Perciò Se avete Un programma Che non Deve Connettersi A internet O un Gioco Che non Deve Connettersi A internet Basta Prendere Il Link Del server In cui Lui Deve Connettersi E Inserirlo Nella lista Una volta Fatto Questo Non c'è Niente Al mondo Che possa Far funzionare Quella Connessione Perché il file Host È Micidiale Il problema Qual è Che se Anche voi Andate a Modificarlo Nel momento In cui Andate a Fare Salva Non vi Dà Il permesso Perché Perché È un file Sicuro E Controllato Controllato Da Windows Controllato Dall'antivirus Per modificarlo Bisogna Tirarlo fuori Copiarlo Ve lo copiate Beh insomma Vi ho fatto vedere Dei tutorial Dovete Tirarlo fuori Dovete Fare Tasto destro Proprietà Togliere Sola lettura Se non è Già presente Salvare Sul desktop Il file Modificato Rimettere Sola lettura Rincollarlo Dall'altra parte Risostituirlo Cioè Bordello Se voi invece Avete qua Questa funzione Bellissima Inserite l'indirizzo IP Che vi serve Mettete il dominio Ad esempio Scrivete Non so Cosa posso mettere Ccleaner Ipotesi Aggiungi E il vostro programma Non si connette più Internet Quindi il vostro Ccleaner Non si connette più E lo potete avere Direttamente qui Su Editor Host Ok Lo potete fare In maniera Velocissima Se avete a che fare Con Host Più o meno Veloci Ok Github Mettiamo Github Aggiungi Blocca Aggiungi Tac Github è bloccato Ok In questo caso Non vi va più bene Prendo Cancella E cancella E github Ritorna a essere utilizzabile Questa è veramente Una bomba E si può fare L'editor avanzato E modificare Il file host Cosa significa Io inserisco qua Tutti quanti i miei link Che voglio E vado su salva Tac È già a posto Quindi Editor avanzato Abbiamo la possibilità Di inserire Delle stringhe Dei pacchetti Che magari Vi faccio copia e incolla È molto molto comodo E secondo me Per gli smanettoni E soprattutto Per chi Non smanetta Può veramente diventare Una bomba micidiale Una volta Fatto E modificato Sappiate che tutto quello che Avete modificato È Cioè Da là non si scappa Ok Quindi attenti A ciò che andate a inserire Perché potete rischiare Anche di non usare Più il pc Io ho fatto Un file host Premodificato Malefico O malvagio Adesso non mi ricordo Deve essere malvagio E ha talmente Tanta roba dentro Talmente tanti link Che qualsiasi cosa fate Non vi fa più usare Il computer La connessione internet È letteralmente Piantata Utile per fare scherzi O Scherzi Non vado Oltre Altra cosa Registro Qui possiamo Riparare I problemi Più comuni Da registro Quindi Finestra esegui Tasto destro Windows firewall Edito del registro Pannello di controllo Avete tutto quello Che vi può tornare utile Riavvia anche Explorer Per applicare le modifiche Quindi una volta Fatto tutto Riavviate Si ripara Viene riavviato Explorer E Probabilmente Riparate Il vostro problema Chiaro che Deve essere Tra Questi Potete anche fare Abilita tutto Riavvia Ripara A posto E lui fa Un reset Di tutte quante le impostazioni Molto molto comodo Se avete un computer Bloccato Che vi dà fastidio Insomma Sapete di cosa sto parlando Hardware Qua Un'altra chicca Che secondo me Cioè Non so Chi ha ideato Questo programma È veramente Oltre Perché Perché invece di utilizzare H W Info Eccetera O altri programmi Potete Dentro a questa schermata Avere Tutto il vostro Sistema Hardware Del vostro pc Quindi Sapere che tipo di processore La memoria ram La scheda grafica Potete vedere la scheda madre E vi andate in cerca Ad esempio Dei driver Devo installare i driver Della mia scheda madre Non so che scheda madre è Eccola qua Tac Ve la beccate Avete Il modello Il prodotto È tutto Avete bisogno Di sapere I vostri hard disk Che cosa sono Eccoli qua Avete Tutto a disposizione Quindi Sia per trovare i driver Sia per Non so Fare delle Implementazioni Sapere se la vostra Scada madre Supporta il TPM E lo potete Inserire Ve lo andate a cercare E qua avete Tutta la vostra Macchina In un click Senza Considerare che potete Sia copiare E incollarlo Da qualche parte Sia salvare Direttamente Il file E Magari Spedirlo Al vostro tecnico Di fiducia O a chi A chi deve Farvi assistenza Se Ad esempio Ha capitato Tantissime volte A me Che un Follower Mi dica Naro Ho problemi Al pc Non so Cosa fare Perché Non so Se mettere La scheda Video Se ci sta Non so Se la ram E' sufficiente Eccetera Si va qua Si fa Salva Si manda Via mail Il link Il file E a posto Avete tutto Quello che vi serve Del vostro pc Tutto Veramente In un click Fighissimo Ultimo Ma non ultimo Integrazione Questo Serve per Aggiungere Tutto quello che volete Elementi Programmi Eccetera Eccetera Nel menu Contestuale Del desktop Eccetera Eccetera Ora Qua Dovrei fare Quasi un video A parte Possiamo Aggiungere Un programma Esempio Vogliamo Fare in modo Che nel tasto destro Quando vado Ad esempio Qua Mi apro Non so È il mio Sito Oppure Apro un programma Apro Qualsiasi Altra cosa Facciamo Il github Vogliamo aprire Github Perché lo utilizziamo Spesso Allora Andiamo a Cliccare link Mettiamo Mettiamo Il nostro link Di github Possiamo addirittura Aggiungere un'icona Se vogliamo Anche no No Per adesso no Posizione elemento Lo mettiamo In alto Possiamo metterlo in mezzo Possiamo metterlo in basso Mostra solo quando Shift è premuto Questa è una figata Serve Per nascondere Il link O il programma A quello che vogliamo A chiunque altro Solo se qualcuno Preme il tasto Shift Della tastiera In automatico Compare Nome elemento Del menu Ad esempio Optimizer Aggiungi Modifica E lo inseriamo Tac È stato aggiunto Ora Tasto destro Mostra le altre opzioni Eccolo qui Noi abbiamo Optimizer Quindi io lo clicco E me lo apro Questo Vale per tutto Abbiamo cartelle Possiamo aprire programmi Possiamo aprire file Possiamo fare un comando Possiamo fare qualsiasi cosa Ci siamo stufati E non vogliamo più Github qui O possiamo spostarlo O altro Rimuovi Rimuovi Si fa rimuovi E Github Non c'è più Questa è una figata Fotonica È veramente Una chicca Pazzesca Forse farò anche un video Dedicato Perché Le funzioni Che si possono fare Con questa cosa Sono Spaventose Potete veramente Creare Il mondo Veramente Penso di dover fare Un video A parte Perché È qualcosa Di eccezionale Ritorniamo Su opzioni E Mostra accesso Io lo tolgo Altrimenti Mi si avvia in automatico Personalmente Non mi serve Però Porca miseria Ditemi se non è Un programma Bomba Lo potete Scaricare gratis Utilizzare gratis E Cioè Spaziale Se avete dubbi Domande o altro Resto sempre A disposizione Scusate se il video È venuto lungo Ma c'era veramente Tanto Troppo Da parlare Penso appunto Che farò comunque Altri video Dedicati Per varie sezioni E niente Se è stato utile Iscrivetevi al canale Abbonatevi Se volete Addirittura Una VPN gratis O comunque sia Di vantaggi A livello anche Di licenze E tutto il resto Vi andate a vedere Il video Degli abbonamenti Per capire meglio E ci vediamo Alla prossima puntata Grazie ancora E bye bye Grazie a tutti